In questi giorni di lockdown e distanziamenti sociali, di chiusura delle attività commerciali, forse perché c'è stato più tempo per pensare, si è aperto un dibattito, l'ennesimo a dire il vero, sul futuro del centro storico di Ragusa Superiore, tra le proposte delle ultime ore, quella avanzata dall'ex vice sindaco e attualmente commissario della Lega, Massimo Giannucci, che ripropone l'idea di creare un centro commerciale naturale al chiuso lungo l'intero asse di Via Roma che da Corso Italia conduce al ponte Pennavaria. È un progetto che risale a qualche anno fa, ha affermato Giannucci, e che dunque avrebbe bisogno di essere rivisto e adattato alle nuove esigenze tecniche. La superficie di Via Roma è di 3.000 metri quadri, quella da coprire a circa un terzo. Copertura con vetro temperato da porre ai lati e una struttura in alluminio, mentre il centro sarebbe lasciato sempre libero, tutto ciò attingendo dai fondi della legge su Ibla, circa 400.000 euro. Creare un percorso avveneristico simile potrebbe anche risolvere le difficoltà legate alle intemperie, che nel confronto con i centri commerciali propriamente detti rappresentano uno dei punti deboli per il centro storico superiore di oggi. Non è questa che chiaramente continua Giannucci la soluzione madre e dovrebbe piuttosto rappresentare l'ulteriore elemento di una discussione molto più ampia che già in parte è stata avviata dall'attuale amministrazione comunale, discussione che ha subito un oggettivo rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria e che però, proprio per tale ragione, così come sostenuto da alcuni consiglieri comunali, potrebbe sfruttare la fase di calma per una riflessione più approfondita. Il centro storico superiore ha bisogno di una serie di interventi strutturali che ne devono modificare profondamente l'identità. Occorre garantire degli incentivi a chi decide ad investire in quest'area. E proprio sugli incentivi da destinare a chi vuole investire su Via Roma interviene anche il presidente dell'Associazione Politico-Culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola. Troppe chiusure negli ultimi mesi, ha affermato Chiavola, con un ulteriore aumento dettato dall'emergenza pandemica. Ecco perché l'amministrazione non deve più perdere tempo nell'individuare una serie di pacchetti di incentivi concreti per invogliare a rimanere sul posto chi ha la propria attività in centro e allettare chi invece vuole avviare nuove attività. Inoltre, uno dei principali problemi riscontrati in alcune zone del centro storico superiore continua Chiavola è la ghettizzazione. Cittadini stranieri di ogni etnia sono stati abbandonati in case mal ridotte. Intanto sia la precedente che l'attuale amministrazione non hanno compiuto passi decisivi in avanti legati all'adozione del piano particolareggiato. Soltanto se si potrà procedere con una differente rimodulazione delle unità abitative, allora avrà un senso per i ragusani tornare ad abitare nel centro storico facendosi che le abitazioni possano essere dotate di tutti i comfort.